I dubbi sollevati e riferiti ieri ai nostri microfoni dal consigliere comunale indipendente Carmelo Casano su modi e soggetti che dovranno eseguire le bonifiche costituivano un'interrogazione a firma dello stesso componente dell'assise civica regolarmente depositata e che aspettava chiarimenti da parte del primo cittadino Domenico Messinese. I dubbi iniziano a sorgere anche tre membri della Commissione Ambiente e Sanità preseduta da Virginia Farruggia e così la stessa commissione ha acquisito l'interrogazione proposta da Carmelo Casano. La commissione però va oltre. Il presidente e i componenti Salvatore Farruggia, Maria Pingo, Crocifisso Napolitano e Giuseppe Ventura vogliono valutare l'idoneità del contenuto dell'avviso pubblico lanciato da Confindustria Centro Sicilia e volto alla scelta delle aziende che potrebbero insediarsi nelle aree di smesse Eni. Non è chiaro chi debba pagare costi di bonifica, ha spiegato il presidente Virginia Farruggia. Cercheremo di avere tutti i chiarimenti del caso anche sul piano dei criteri di scelta delle società che volessero avviare progetti in quelle stesse aree. Un altro punto scuro sono le agevolazioni fiscali da concedere a chi si insedierà. Dovrà finanziare l'ente comunale, conclude Virginia Farruggia.